Bagno di folla a Villa delle Favare a Biancavilla in occasione della presentazione del progetto e dell'organigramma del Real Biancavilla con pagina sportiva che ha riunito tutte le migliori competenze calcistiche del territorio mettendole insieme in un unico progetto votato ai giovani e alla loro crescita Il presidente di questo sodalizio è Giuseppe Pappalardo, imprenditore attivo nel campo dell'energia che ha deciso di spendersi sul sociale e sullo sport Uno staff di primo ordine è già al lavoro, uno dei passaggi significativi è l'affiliazione al progetto Perugia Academy che nella circostanza è stato presentato e tanti genitori presenti Il primo obiettivo è costruire una realtà che possa aiutare i ragazzi a crescere in maniera sana e che possa sfornare anche qualche buon talento da lanciare nel panorama calcistico professionistico Stiamo mantenendo una promessa che è partita l'anno scorso con il nuovo corso del Real Biancavilla L'ambizione era quella di iniziare a costruire una cultura dello sport a Biancavilla perché sì, il calcio è importante, lo sport è importante, l'attività agonistica sicuramente è una parte quasi principale di quella che è la disciplina ma la cultura dello sport purtroppo non è stata mai attenzionata Abbiamo deciso di puntare moltissimo sulla scuola calcio e sul settore giovanile e poi semmai sarà il caso arrivare ad una prima squadra perché prima di tutto vengono i nostri giovani, i nostri figli e viene la nostra realtà e questa promessa la stiamo provando a mantenerla anche perché finalmente abbiamo il progetto sportivo e unico con l'inclusione anche dell'UCM e credo che sarà una stagione importante e bella anche perché abbiamo allestito uno staff che credo che non sia uno staff da scuola calcio da settore giovanile ma è uno staff che poteva già ambire a fare altro Ecco, le ambizioni e l'organizzazione sono oggi fondamentali per poter fare sport non è più facile come un tempo, non è più soltanto inseguire un pallone ma ci vuole un'organizzazione importante, è un bel riconoscimento arrivato anche da chi rappresenta il Perugia Academy il progetto del Perugia, quindi una squadra professionistica che si è allacciato a voi proprio perché vuole eseguire questo vostro percorso e sposa le vostre idee Esatto, diciamo che l'affiliazione col Perugia è sicuramente una squadra professionistica serve per anche dare un valore aggiunto, un sostegno a quello che è anche la crescita dei nostri tecnici che sono tutti qualificati con i vari tesserini previsti dalla FIGC e quant'altro ma la nostra ambizione è di arrivare a diventare presto, non so quanto, spero l'anno prossimo però non voglio dare date perché il progetto è faticoso, quello di diventare scuola calcio elite questo tipo di qualifica della FIGC ci permetterà davvero di fare un salto di qualità e di creare un settore giovanile che possa guardare a quello che è anche il panorama professionistico anche italiano perché non è detto che i campioni vengono solo da Milano, da Roma o da Venezia ma il Sud può dire la sua in tutta questa storia E con l'ultima domanda, visto quanto è complicato, come abbiamo detto prima, fare calcio possiamo dire che questo è un atto d'amore nei confronti della comunità di Biancavita soprattutto per i ragazzi, per tirarli fuori dalla strada, per quelli che avessero magari dei disagi dal punto di vista sociale e insegnargli una strada positiva fatta di valori Ma questa è un'affermazione ma è anche una domanda che ricevo puntualmente ma chi te lo fa fare con tutte le cose che fai durante la giornata? Eh, me lo fa fare proprio quello che hai detto tu, è proprio l'amore per i nostri figli e poi devo dire la verità, l'Artevice è anche mio figlio Stefano perché quando non ero ancora presidente era scritto al Biancavilla, l'ho visto giocare diciamo che il mio cuore si è avvicinato e quindi da papà mi sono detto beh, bisogna fare qualcosa per questa comunità, bisogna dare una mano a quello che è lo staff Francesco Lavenia e questo è stato fatto Ecco, dal punto di vista invece di quella che è l'azione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda appunto i rapporti con loro, qual è la situazione? Ma noi cerchiamo sempre di tenere distanti quelli che sono gli aspetti politici da quelli che sono gli aspetti agonistici e sportivi Io dico soltanto una cosa, dico che oggi dopo la riforma dello sport in vigore dal primo luglio di quest'anno fare sport con le società sportive direttantistiche è molto difficile mancano gli incentivi da parte delle pubbliche amministrazioni tutte, quindi non solo quella di Biancavilla in generale è importante cercare di massimizzare quella che è la risorsa che abbiamo a Biancavilla che è il campo sportivo quindi ci aspettiamo da questo punto di vista un'apertura, una messa a disposizione un'agevolazione per quanto riguarda le società locali da questo punto di vista e credo e spero che si andrà in quella direzione Noi quest'anno abbiamo creato un organigramma importante all'interno della Biancavilla dove abbiamo strutturato bene la scuola calcio, abbiamo strutturato bene il settore giovanile il CM e il Real Biancavilla perché in questo mondo e in questo più che altro periodo di difficoltà nello sport è giusto unire le forze e di fare un progetto unico per il bene del nostro comprensore che è Biancavilla e anche per il bene di tutti i ragazzi e i bambini sia del settore giovanile che della scuola calcio nostra e anche del comprensore Biancavilla diciamo in generale Sei coadiuvato da una staff importante, il Presidente diceva una staff che non sembra neanche quello di una scuola calcio Sì perché diciamo che io vengo da un passato dove ho avuto la mia società che era la SD Scandberg di Biancavilla molti anni fa dove ho creato tanto e ho lasciato bene poi per questione di difficoltà e vicissitudine non ho potuto più continuare il progetto Scandberg e ho ripreso la mia esperienza e l'ho portata all'interno del Real Biancavilla appunto formando uno staff di tutto rispetto con ognuno con i propri ruoli un gruppo di dirigenti che ci dà una mano anche nel settore giovanile una scuola calcio con tanti istruttori qualificati e chi non lo è quest'anno c'è anche il corso UEFA-C che sarà a Catania che tra l'altro due nostri istruttori stanno partecipando diciamo che facciamo sempre il bene per i nostri ragazzi Ultima domanda sugli obiettivi Fermo restando che il principale è quello appunto di formare questi ragazzi dal punto di vista anche personale oltre che sportivo però io devo chiederlo dal punto di vista sportivo un obiettivo, un sogno, un desiderio proprio prettamente calcistico che ha questa società che nasce a Biancavilla Allora intanto il primo punto nostro è noi essere educatori per i bimbi perciò la cosa più importante è il bimbo che cresce in un ambiente sano e in un ambiente dove ci siano delle persone preparate per lui poi i nostri obiettivi possiamo dire che ci piacerebbe tanto creare un bel settore giovanile, una bella scuola calcio e anche una piccola squadra con tutti i nostri ragazzi che escono dai vari settori Il progetto Perugia comunque è incentrato su quello che è lo sviluppo del settore giovanile utilizzando e applicando una metodologia che è quella del football game Io collaboro con loro già da diverso tempo sono un tecnico academy e collaboro per quanto riguarda la gestione logistica della Sicilia Sono molto contento che questa società abbia riconosciuto nel nostro progetto un valore cercheremo di dare quanto più aiuto possibile nella formazione dei tecnici nel confronto e nella possibilità di far vivere delle esperienze a tutti i ragazzini cercando di portare comunque un sorriso, una passione all'interno della società Grazie! 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 Grazie!